al signor goloso piaceva mangiare e più mangiava più diventava tondo e più ingrassava più gli veniva fame e più gli veniva fame più lui mangiava egli abitava in una casina che gli assomigliava in tutto era una casina rotondetta e piuttosto grassoccia al mattino il signor goloso si svegliò molto presto salzò scese le scale e si preparò una colazione abbondantissima quattro fette di pane tostato un pacco di fiocchi d'avena un litro di latte una zuccheriera proprio piena piena di zucchero tre uova sode un panetto di burro e anche un bel barattolo di marmellata dopo aver mangiato fine briciole e di quell'abbondante colazione il signor goloso si appoggiò allo schienale della sedia e cominciò a pensare bene bene che cosa potrai mangiare a pranzo e per farsi vedere l'appetito decise di andare a fare una piccola passeggiata cammina cammina e a un certo punto si trovò davanti a una caverna il signor goloso che era anche curioso entrò nella caverna scura salita una scala formata da altissimi gradini si trovò di fronte a un enorme porta l'aprì e si trovò nella stanza più grande del mondo il pavimento era vasto come un campo il tavolo era alto come una casa le sedie sembravano degli alberi dal tavolo giungeva un delizioso profumino il signor goloso riuscì ad arrampicarsi su una sedia e raggiunse questo tavolo scoprì così la fonte di quel delizioso profumo su un enorme piatto c'erano enormi salsicce grandi come cuscini enormi patate grandi come palloni e enormi piselli grandi come cavoli il signor goloso corse verso il piatto e cominciò a mangiare tutto quanto ma all'improvviso si trovò prigioniero di una mano gigantesca era proprio la mano del gigante e tu tu no gigante chi sei signor goloso era terrorizzato e balbettò gogo gogo gollo l'oso goloso di nome di fatto urlò il gigante tu meriti una lezione e lo costrinse a mangiare tutto quello che c'era nell'enorme piatto dopo aver finito il signor goloso stette male insomma gli sembrava di scoppiare con tutto quel cibo devi promettermi che non sarai più così tanto goloso disse il gigante oh sì 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 prometto piagnucolò il signor goloso bene ora puoi andare disse il gigante il signor goloso scese dal tavolo uscì dalla porta più o meno di corsa la sua golosità lo aveva proprio messo nei pasticci e come finì la storia il nostro protagonista decise proprio di vincere il suo vizio per il cibo mantenendo fede alla promessa fatta al gigante